Un docente di fisica che sorprende i suoi studenti immergendoli negli effetti visivi e sonori di un'esplosione di un vulcano. Perché siamo partiti da qua? È una delle strategie da cui possiamo farci ispirare, elaborata da Gagné. Gagné è un pedagogista americano nato nel 1916 e è diventato famoso nel 1965 per il suo testo Conditions of Learning. In questo testo aveva individuato in linea con quella che è la prospettiva comportamentista associativa alla quale lui aderiva una serie di condizioni necessarie perché diverse tipologie di apprendimento potessero avvenire e in base alle quali poi potessero essere osservati. L'idea di partenza di Gagné, come in generale dei pedagogisti che aderiscono alla prospettiva associativa, è l'idea che l'apprendimento ha luogo quando una situazione di stimolo colpisce il soggetto, in modo tale che ci sia un cambiamento nella sua prestazione da prima che la situazione si verifichi a dopo. Questo cambiamento della prestazione fa concludere che l'apprendimento è avvenuto. Gagné ci mette a disposizione, nell'ambito della sua elaborazione teorica, anche un vero e proprio modello pedagogico, cioè delle linee guida operative che possono facilmente essere integrate nella pratica didattica. Abbiamo visto prima come in generale le teorie associative comportamentiste abbiano suscitato nel tempo tutta una serie di riflessioni critiche rispetto alla loro dimensione eccessivamente meccanicistica e frammentaria, in cui l'apprendimento viene visto proprio come un processo totalmente individuale, causato da una relazione stimolo-risposta con quello che viene proposto dall'insegnante. Di sicuro le elaborazioni successive ci hanno portato degli stimoli più ricchi e interessanti, ma anche dal contributo di Gagné possiamo ricavare delle ispirazioni interessanti. Andiamo ad esplorare insieme questi eventi educativi di Gagné. Gagné ci dice che per creare un contesto di insegnamento e apprendimento efficace è necessario organizzarlo con una sequenza di attività, dette appunto eventi educativi, caratterizzati da una specifica funzione. Il primo evento è quello che abbiamo visto prima col momento del vulcano, quello del coinvolgimento, quello in cui il docente si deve impegnare nel creare un contesto che susciti la curiosità e l'interesse dello studente, magari anche andando a cogliere degli stimoli dalla cronaca, dalla contemporaneità o da situazioni che possono essere particolarmente interessanti o vicine alla vita dello studente. Sulla base di questo è poi necessario creare un'aspettativa rispetto all'utilità dell'approfondimento dei contenuti che fanno riferimento a quello stimolo iniziale che è stato proposto. Poi un momento molto importante è quello dell'attivazione delle conoscenze pregresse. Cioè, quindi dopo aver coinvolto e stimolato le aspettative, Gagné ci dice è importante creare un momento in cui si vadano a riattivare le conoscenze pregresse dello studente. Qua vediamo delle contaminazioni con altre prospettive in cui la costruzione di una rete tra le conoscenze pregresse e le nuove conoscenze è molto importante. Come prosegue l'esperienza di apprendimento e insegnamento secondo Gagné? Prosegue con una proposta e una selezione di contenuti che possono essere utili rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi, un supporto alla comprensione che viene offerto dal docente agli studenti e poi momento dell'applicazione pratica delle conoscenze acquisite. A valle di questo, molto importante secondo Gagné, il momento del feedback. Qui riconoscete chiaramente la prospettiva associativo-comportamentista in cui un ruolo cruciale viene data all'attività pratica, che quindi mi permette di osservare la modificazione del comportamento conseguente al processo di modificazione delle strutture cognitive. E la cosa particolare di Gagné è l'enfasi che lui mette sull'importanza del feedback distinto dal momento della valutazione. Il feedback è il momento in cui il docente si impegna a chiarire allo studente la qualità della sua prestazione e quanto questa si avvicini o meno ai risultati attesi. Ricordate il concetto del rinforzo positivo o eventualmente negativo nel caso del comportamento non appropriato. A questo poi segue una valutazione che traduce in una dimensione formale il feedback che è stato attribuito, sottolineandone maggiormente il valore di rinforzo positivo o negativo. E infine viene proposto un momento di consolidamento, di generalizzazione, in cui le conoscenze acquisite e sperimentate nell'applicazione vengano applicate a contesti più ampi o eventualmente un poco diversificati rispetto a quello di partenza. Proviamo a sintetizzare. Abbiamo esplorato un primo modello pedagogico ispirato alla prospettiva associativa e comportamentista che è quello di Gagné. In particolare abbiamo approfondito la sua proposta degli eventi educativi che propone un modello pedagogico di gestione dell'attività d'aula che parte da un momento di coinvolgimento. Abbiamo visto il contesto d'aula con l'esplosione del vulcano che cattura l'attenzione degli studenti, la creazione di un'aspettativa rispetto all'apprendimento, l'attivazione delle conoscenze pregresse, il trasferimento, la presentazione del contenuto, la sua applicazione, il momento del feedback, la valutazione che si conclude poi con la generalizzazione e il consolidamento.